I venditori della Barbieri ci presentano la nuova Arteon, questo qua è il nuovo prodotto in casa Volkswagen, nuova Arteon, questo qua è una macchina particolare nel senso che è una coupé con un taglio veramente molto molto sportivo, possiamo vedere le marbature dalla parte anteriore che vanno su tutta la vettura, abbiamo una portiera senza il battente e un bagagliaio di tutto rispetto, un bagagliaio che è anche elettrico, basta semplicemente schiacciare il pulsante e se di chiudere il bagagliaio, motore della nuova tecnologia 2 litri da 240 cavalli biturbo, quindi è veramente un motore di ultima generazione, uno dei più stazioni, dei modelli in punta del gruppo Volkswagen, trazione integrale 4 locomotrici, quindi oltre la sportività anche una trazione per andare un po' dappertutto, cambio DSG, l'ultima generazione a 7 rapporti, e poi guardiamo qua addirittura abbiamo un nuovo sistema di Gesture Control, schermo da 9 pollici con Info Active Display, sempre di ultima generazione, qua possiamo vedere proprio lo schermo, qua andiamo a prendere la navigazione, per esempio, possiamo collegare tutti i nostri dispositivi portatili, siamo connessi anche con la casa madre, quindi con Carnet, sempre di ultima generazione, con AppConnect, Carnet come dicevo prima, il Media Control di Volkswagen e con i Gesture Control, clima ovviamente è sempre bi-zona e cambio automatico DSG, doppia frizione.